Avelino continua ad eccellere nei campionati studenteschi. Dopo le tante vittorie del liceo De Luca, anche il convinto nazionale si è fatto valere in una competizione regionale e lo ha fatto nei campionati studenteschi di Benvington andati in scena a Battipaglia. Per rappresentare l'istituto sono stati scelti Leonardo Schiavone, Simone De Feo, Ilaria Calabrese e Alessia Ciardi. La squadra, allenata da coach Maietta dopo un primo approccio non proprio positivo, è riuscita a rimettersi in careggiata e a conquistare il primato e l'oro sbaragliando scuole di Benevento, Salerno e Napoli. Una grande soddisfazione per coach Maietta ma soprattutto per il Benvington navellinese che sta trovando sempre più consensi in tutta l'Irpinia. Adesso i ragazzi del convinto saranno impegnati nelle gare interregionali, circuiti che non spaventano gli atleti abituati a gareggiare fuori dalla campagna dato che molti di loro fanno parte della BC celeste Benvington navellino di Ennio Napolitano che nell'ultima stagione ha conquistato ben sei circuiti in tutta Italia.